ho due anni a Berna, all'Ufficio federale dell'Agricoltura non vorrei parlare per ore e ore, mi hanno preso parlare e anche lui è agronomo, di buono, di intelligente ecco, forse volevo anche dire che io e da lavoro dieci anni, qualche cifra e un po' di foto, per discutere ecco, quindi per cominciare i cifri del Bocchina Paso sono i analisti di Fugia, la capitale è veramente interessante confrontare i paesi con la quale cifra perché non c'è neanche volo per le mani trante la stessa, questo è dovuto al fatto pieno di un 20% animisti, la zona, la Svizzera, la maggio non c'è neanche due e quasi con sei vizi o neanche anche lì ho messo di tanto e tanto delle foto un po' tra la Svizzera, ottobre, ottobre e novembre fino a giugno e poi partire dal giugno a luglio si può sentire, è una pioggia piena di grassi dietro che è nata in Bocchina Paso e tante famiglie hanno un vaso con cui trasportano il materiale in Bocchina Paso si fa del vaso in alto adesso è il nome di più spesso quelli che fanno il giugno che andano a ingerirsi al sud ma come si fanno a mandare delle prima informazioni delle ONG locali c'è questo appoggio al in-sud con le persone che vanno giù che però fanno anche un lavoro al nord di sensibilizzazione per esempio i terapici di Svizzera di Campalla ma anche grazie ai colleghi che scrive regolarmente tra il sud e il nuovo la persona educativa in realtà hanno un'occasione che ho lavorato con i bambini in amicafanti la condizione del risultato diventa un'occasione biologica ma un filiale si è formato per maniere promuovano la vita di Svizzera quindi io sono piuttosto qui per fare come si vuole dire sostenere i miei colleghi di Alfa a fare il lavoro qui è un po' all'ordine c'è un po' appunto da più di vent'anni adesso la metà di noi non voglio togliere di più toglie ma noi finanziamo dei progetti ma non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Meccanizzate così, che lavorano per ogni, così nazionale, e così, palmaccio e barri. No, mica fa finta che ti inquadri. Si prendono i frutti, fanno farina e dopo biscotti. E come si fa? Allora fammi vedere i frutti del Baobar, i biscotti. Dai, che andiamo. Quali sono? E come sono preparati? Buonissimo. Fanno farina per la frutta e dopo un impasto per il biscotto. Proviamo? È buono? Ottimo, è buono. E' buono, è buono. E' 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 buono.